Siate missionari e testimoni dello spirito sinodale capaci di consolazione pastorale. Così il Papa è partecipante al corso di formazione promosso dalla Sacra Rota sul tema il nuovo processo matrimoniale e la procedura superrato ricevuti in Vaticano. Francesco ha colto l'occasione per precisare meglio che il Vescovo Giudice Nato della Chiesa particolare è l'architrave dell'intero processo breve intervenuto dopo l'abolizione della doppia sentenza conforme sulla nullità del matrimonio. Lo è affermato il Papa per consacrazione, per questo il processo non è un'opzione ma un obbligo per il Vescovo. Criterio fondamentale è poi la misericordia, mentre prossimità e gratuità sono le due perle di cui hanno bisogni poveri che, ha aggiunto il Papa, la Chiesa deve amare sopra ogni cosa. Nel vostro servizio voi siete chiamati ad essere prossimi alla solitudine e alla sofferenza dei fedeli che attendono dalla giustizia ecclesiale l'aiuto competente e fattuale per poter ritrovare la pace nelle loro coscienze e la volontà di Dio sulla riammissione all'Eucaristia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.